più di mille anni di storia sono custoditi nel cuore di un vasto parco ottocentesco nel panorama del canavese regalati una giornata speciale visita il castello e parco di masino a caravino 40 minuti da torino e un'ora e mezza da milano è questo il consiglio del fai un'ora e mezza Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.